Rimani aggiornato sulle notizie di gossip, cronaca, reality show, sport ed altro. Iscriviti al canale Notizie Flash. Ti chiamavo, il ragazzo con tre cuori. Punto. Esordisce così Tiziano Ferro in un toccante messaggio pubblicato su Instagram per annunciare la morte del suo amato cane. Ad accompagnarlo. Una foto straziante di lui e suo marito abbracciati al cucciolone. In lacrime. Nel post. Il cantante ringrazia Jake, per il tempo trascorso insieme e ricco d'amore perché ci hai dato lezioni di gratitudine e fedeltà nonostante arrivassi da anni di maltrattamenti e di canile. E perché nella tua infinita generosità hai deciso di dare spazio ad un altro di quei cani adulti che nessuno vuole. Solo perché la gente non conosce l'amore superiore del quale sono stracolmi. Salutaci bo, l'altro amato cane del cantante. Scomparso nel 2020, e sappi che non ti dimenticheremo mai. Ciao Gigio.